Alda ci siamo ci siamo Alda si è preso 200 metri di filo la canna la più piccola 30 colta libere pen ho un nylon da 60 molinello da 30 e una canna da 30 ottima tirnos però vedi come si incurva e si impianta lì adesso mi tocca stare fermo così un po sta venendo fuori il piombo ma non riesco a fare più di così il mulinello è bloccato e io sono chiuso al massimo è guarda guarda che continua guarda come come si muove ed è sotto solo sì e no sarà sotto di 10 metri perché il piombo è a 10 metri più o meno ecco quello d'acqua Alda è qui a pelo d'acqua adesso lo tengo qua eccolo qua qua eccolo 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 Alda ecco Grazie a tutti.